La pronuncia del Tar si conventia nel dispositivo che è di affermazione di inammissibilità del ricorso. Non mi risulta ci sia stata una pronuncia di riconoscimento della compatibilità con l'attuale assetto normativo del procedimento di trasferimento dell'impianto, né tantomeno una condanna per Ecoambiente, ovvero per la provincia, ad eseguire la convenzione. Così l'assessore provinciale all'ambiente, Adriano Bellacosa, risponde al commissario liquidatore del Coris A4, Domenico Del Gaudio, secondo il quale i giudici avevano stabilito che Ecoambiente S.p.a. deve dare seguito alla convenzione stipulata con Coris A4 e da agosto 2013 l'impianto di Casalvelino, così come 30 addetti allo stesso, sono in carico alla società provinciale con tutti i relativi oneri. Bellacosa smentisce e sottolinea, non credo che quanto deciso da parte del tribunale si presti a letture di diverso orientamento e poi vero che nella motivazione della sentenza si affermi la vigenza della convenzione per l'impianto di Casalvelino vallo scalo, ma temo che non già in ragione delle decisioni dei dirigenti e funzionari della provincia, quanto per le ultime e molteplici disposizioni normative introdotte dagli ultimi governi, Monti, Letta e Renzi dovrebbe risultare impossibile seguirla. Ovviamente conclude, tutto quanto affermato da parte del TAR Salerno potrà legittimare una qualche riflessione ulteriore, ma neanche credo sia corretto muovere contestazioni agli uffici della provincia che si sono limitati a dare applicazioni a norme di legge.